amici sportivi a tutti voi la più cordiale buonasera dunque da questa sera da questo martedì 14 di ottobre c'è un nuovo appuntamento sul palinsesto di noi tv sul palinsesto sportivo come sempre molto ricco un appuntamento interamente dedicato all'atletica leggera quando diciamo atletica leggera diciamo pista diciamo strada diciamo insomma tutto quello che concerne l'attività sul nostro territorio e non solo soprattutto con le realtà del nostro territorio e quindi come prima puntata o puntata zero come sono solito dire quando un programma approccia per la prima volta sui nostri teleschermi non potevamo che chiamare due delle realtà più importanti che ci accompagneranno in questo lungo viaggio fino a primavera inoltrata e i loro esponenti più significativi forse tra i più significativi sono con noi per il gruppo podistico parco alpia puane il presidente graziano poli buonasera guido buonasera graziane grazie di essere con noi per quanto riguarda la virtus cassa di risparmio di lucca matteo martinelli direttore tecnico buonasera guido buonasera a tutti buonasera grazie poi naturalmente possiamo già dire no ragazzi che da da martedì prossimo ci manderete i vostri atleti i vostri dirigenti quelli che fanno parte della vostra realtà no e quanti ne hai graziano tu da 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 spedirci parecchi ma noi sinceramente non abbiamo non finiremo neanche le prontate amatori assoluti e avendo ora anche la fortuna di avere un piccolo settore giovanile devo dire ma mi giungono oggi che sta veramente levitando siamo oltre 100 oltre 100 beh di là matteo non lo ma è numeri numeri considerando che poi adesso dal dal nuovo anno putterete dentro anche il settore femminile numeri importanti numeri grossi si stavano contando in questi giorni e veramente quest'anno arriveremo oltre 500 tesserati nel parlo per la stagione 2015 fra settore giovanile e settore agonistico maschile e femminile indubbiamente con una grandissima fetta di presenti di tesserati sul settore giovanile che sta registrando numeri record per l'escrizione ai corsi comunali di atletica leggera tra l'altro fra poco vedremo anche delle immagini che vi riguardano che riguardano la vostra attività la stagione vostra possiamo dire per il tipo di attività che svolgete graziano non finisce mai la nostra stagione dal punto di vista organizzativo è molto intensa e finirà diciamo fra qualche domenica con la importantissima stragaste nuovo la gara internazionale a circuito in cui confermate primi di dicembre sì quest'anno abbiamo adottato visto le numerose gare due giornate faremo il primo il primo di novembre faremo la stragaste nuovo agonistica a livello assoluto maschile e femminile mentre il 2 novembre vogliamo dedicarci interamente a una gara tutta riservata al settore giovanile infatti sicuramente colgo l'occasione per insomma invitare anche gli amici della virtus e dal punto di vista ecco organizzativo si chiude la stagione in questi mesi invernali una stagione intensa perché è iniziata nei mesi primaverili e quindi sono sette otto mesi dal punto di vista invece agonistico la parte degli assoluti è terminata e devo dire che questo 2014 è stato un anno in crescendo perché noi di un anno in anno cerchiamo sempre di migliorare dove arriveremo spera lontano ci metteremo tutto il nostro impegno non lo so e dal punto di vista agonistico la stagione il cds su strada si è concluso il 2 d'agosto a esernia dove abbiamo anche vinto con grande soddisfazione la prova di cds di corsa su strada alla gara appunto ai 10 chilometri e siamo arrivati nel totale delle squadre italiane quinti assoluti quindi senz'altro è un grande grande risultato dovremmo vedere anche poi delle immagini relative a una delle vostre gare organizzate anche non solo nella zona della della garfagnana e delle alpi apuane da cui prende prende il nome la vostra società che tra l'altro se non ricordo male graziano voi siete nati come gruppo podistico parco alpepane nel 2005 noi siamo nati nel 2003 a nel 2003 si alla fine ha superato i 10 anni di vita si abbiamo festeggiato io c'ero quel giorno non so se ti ricordo e mi sembra sinceramente mi sembra ieri sì effettivamente è un po come il tempo che scorre ormai guardo quella foto sotto la rocca e ragazzi sono passati 11 anni 11 anni sono passati 11 anni 11 anni che di anno in anno ci hanno portato con lenti ma sempre progressi e questo sicuramente è un nostro vanto perché secondo me come in tutte le cose bisogna sempre crescere ma nella maniera sempre adeguata un po adattata alla situazione allora queste sono le immagini se non sbaglio qui siamo a chiozza no proprio lì sì siamo a chiozza della castiglione san pellegrino a vedere queste immagini sembrerebbe ottobre novembre in realtà eravamo a luglio e si un po il tempo è diventato alla rovescia diciamo l'estate è stata quella che è stata la castiglione san pellegrino per per dire che una delle corse a cui forse si è più affezionato dove insomma c'è anche la componente agonistica e tecnica perché questa cosa è veramente durissima considerando che poi gli ultimi chilometri sono quelli famosi si della boccaia la castiglione san pellegrino è una corsa che noi abbiamo diciamo così ereditato dal gruppo sportivo orecchiella qualche stagione orsono io l'ho nel cuore perché amavo devo dire amavo io ti ho visto posso raccontare che ti ho visto protagonista di questa corsa sì infatti è una corsa che la prima edizione insomma sono stato ho avuto anche la fortuna di vincerla è una corsa che scegliere la corsa più bella del delle nostre iniziative a volte resta difficile però questa sicuramente è una corsa come spesso dico io dai lander perché è una corsa durissima purtroppo devo dire purtroppo abbiamo ossiorato anche quest'anno il giro d'italia come pensai il passaggio da san pede che non alpe sinceramente se l'avessero riproposto come tappa io ho visto l'edizione mi sembra del 2004 2003 2004 sempre prima nel 95 esatto era era veramente uno spettacolo questa salita fa selezione in bicicletta fa selezione a piedi e qui ci sono i grandi specialisti possiamo dire della corsa a montagna della corsa a montagna va bene lasciamo queste immagini e andiamo sulla pista perché qui andiamo a tempi più recenti a poche ore fa caro matteo perché parlavi dei giovani parlavi delle delle giovani da inserire in squadra il prossimo anno tanto questi campionati toscani individuali al moreno martini sono andati benissimo ma sono tra l'altro sotto il sole incredibile a dirsi di questi giorni considerando il diluvio e solitamente considerando che a lucca praticamente siamo abituati a all'acqua è stata una grandissima fortuna che il tempo ci ha assistito anche perché le tribune erano veramente piene di atleti atleti e anche tantissimi genitori oltre 900 presenti e tanti atleti tante atlete della proprio del nostro della virtus si parla insomma di di società provenienti da tutta la toscana la centralità di lucca fatto sì che anche rispetto all'edizione per esempio dello scorso anno i numeri delle presenze siano notevolmente maggiori abbiamo sferato praticamente quasi le mille unità di atleti gara presenti un programma gare davvero intenso e anche importanti soddisfazioni è arrivata una medaglia d'oro per voi non so se ve l'aspettavate se è arrivata un po sorpresa ma è arrivata sorpresa sicuramente la validità di martina bertella le qualità le conosciamo le conoscono i nostri tecnici non era tra le favorite nei 60 metri è stata bravissima veramente brava nella serie dei migliori l'ultima che partiva dopo ben 19 serie solo di 60 metri femminili a realizzare il tempo migliore a laurearsi campionessa toscana già perché qui poi con tutti questi ragazzi che partecipavano non è che uno poteva dire faccio le batterie poi le semifinali le finali no si facevano le serie e poi alla fine il miglior tempo vinceva sì perché i numeri erano sono stati veramente mostruosi e e nonostante la collaborazione fra tutte le varie parti organizzative ma siamo andati un po lunghi sull'orario meglio di quanto ci si aspettasse ma insomma siamo arrivati all'una e mezza di domenica dalle dalle nove della mattina ecco non solo la medaglia d'oro di martina ma anche tutta una serie di risultati degli altri ragazzi perché insomma vincere non è mai facile neppure a questi livelli neppure a livello regionale no esatto esattamente però mi preme sottolineare senza ombra di dubbio Cecilia Naldi nel salto è lungo quarta veramente a un soffio dal dal podio così come altri buoni risultati nel settore mezzo fondo con ecco le bimbe seguite questo è un ex atleta intanto questo è un ex atleta ormai ex insomma dai che confermano che insomma c'è dietro alla prima squadra di cui poi comunque stasera inevitabilmente dovremo tornare a parlare più avanti c'è tutto un movimento non so queste sono alcune delle vostre bimbe ora io non le conosco sì una di queste era martina era proprio martina quella più alta quella più alta quindi te pensa che nel servizio che è andato in onda stasera non volendo siamo riusciti a mettercela perfetto ci abbiamo azzeccato io non la conoscevo quello è il classico colpo di fortuna di fortuna va bene matteo nulla e a livello organizzativo voi tra l'altro vi avvalete dobbiamo dire giudici di gara del sì la collaborazione questo graziano che è qui con me gruppo giudici gare è fondamentale perché obiettivamente senza loro non sarebbe possibile ma al di là della punto di vista tecnica sto notando anche una ripresa del gruppo giudici gare a lucca con un nuovo entusiasmo e questo può far altro che bene a tutto il movimento dell'atletica leggera dell'atletica leggera lucchese graziano ma si può creare questa sinergia al di là di quella che è questa trasmissione a tempo di atletica dove come detto voi sarete sarete gli attori principali voi della della più buone gli amici della virtus questa sinergia tra voi che fate attività in prevalenza più fuori strada su strada fuori pista e loro che svolgono in prevalenza attività su pista si può creare questa sinergia esiste già questa sinergia ma sicuramente sì io ti devo dire guido che in questi anni ho visto diciamo un crescere nel correre un crescere proprio in a livello amatoriale poi vedere queste immagini tutti questi che ti brillavano gli occhi perché da poco perché fino a poco tempo fa graziano non aveva non avevate un settore giovanile adesso invece di di sana pianta così è nato questo settore giovanile effettivamente è un vanto è un orgoglio perché avere e questo capisco matteo la soddisfazione che può avere una virzulucca avere tutti questi bambini oltre i 500 tesserati perché sinceramente veder crescere un questo lo devo dire è una nota diciamo a favore della virzulucca è una nota anche un po di merito del parco al piapuane perché noi spesso siamo andati se andiamo a pescare a destra a sinistra l'atleta però sicuramente veder crescere un atleta casa dalla a alla z portarlo in un campionato nazionale che sia di corsa su strada che sia su pista perché effettivamente io la pista la sto conoscendo ora un pochino avere degli atleti che fanno pista la pista è una grande specialità il famoso anello rossa è quello dove secondo me si distingue veramente il vero atleta senza nulla togliere le altre specialità della corsa però ecco ti dicevo vedere crescere un ragazzo che ti falle dalle categorie giovanili fino ad arrivare a livello assoluto sempre con la sola maglia penso che sia una soddisfazione non differente e questo per noi dirigenti penso che mattia lo conferma è un po quello che ci ripaga di tanti di tanti sacrifici insomma di tante giornate perché effettivamente tutte queste cose devo dire una cosa non vengono da nulla vengono perché dietro la virzulucca o dietro al palcapuane c'è gente che veramente si impegna gente lo dico io gente capace gente che ha passione che spesso diciamo sacrifica parte di quello che potrebbe essere il tempo diciamo libero per questa che è fondamentalmente una grande passione matteo su questo argomento ma io la sinergia anche voi ne sapete qualcosa ma sinceramente sono arrivati da altri settori esatto è logico che una società soprattutto società come le alpi apuane come la virtus lucca o altre realtà importanti dell'atletia leggera toscana e non solo a certi livelli gli atleti alcuni atleti di fuori per forza cioè è impossibile sarebbe fantastico però onestamente difficile che il caso dei vostri keniani esatto questo non toglie che un'attenzione sempre maggiore al settore giovanile indubbiamente è un motivo di vanto di soddisfazione e di rilancio anche dell'atletica leggera italiana perché ne ha bisogno che poi lucca sia un un caso una situazione un po particolare in senso positivo nell'ambito dell'atletica credo che questo ormai ne dobbiamo prendere atto in senso positivo ed è un pregio ma non solo per la virtus sulle alpi apuane ma c'è un bellissimo lavoro sul territorio a piata santa con l'atletica piata santa e ci sono altre realtà il gruppo sportivo marciatori barga più sul promozionale a barga ci sono realtà e c'è una vivacità la lucca maraton e così c'è una vivacità sul territorio di lucca che effettivamente come diceva graziano c'è un crescendo anno dopo anno veramente veramente importante e noi tutto questo ve lo andremo a raccontare in questi in questi lunghi mesi in queste tante puntate che abbiamo preparato tutti martedì alle alle ore 21 adesso noi dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria voi graziano tra l'altro quando torniamo dopo la pubblicità mi devi raccontare avete una serie oggi mi hai mandato un comunicato qualche al di là del fatto che un poema veramente ma poi c'è avete una serie di impegni nel fine settimana incredibile peraltro c'è stata anche una prima vittoria di uno dei tuoi cerchiamo di farle lavorare i cento dei serati che abbiamo ne parliamo ne parliamo tra poco dopo la pausa pubblicitaria con la seconda parte di questa prima puntata di a tempo di atletica viaggia 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 Grazie a tutti.